E' stata presentata la lista Democratici e Progressisti, articolo 1 per l'Aquila. Una lista che assomma al suo interno due compagini. La nostra lista è una lista realmente civico-progressista, è una lista politica perché è collegata al nascente movimento di articolo 1 Democratici e Progressisti, come lei giustamente ha detto. Ed è anche una lista civica perché al suo interno ospita il movimento proposta civica di Luigi Fabiani che è rappresentato con sei candidati. Tre componenti della lista, molti fuori usciti dal PD. Il nostro obiettivo, più che la nostra novità, è dare voce alla sinistra in questa città. Che cosa vuol dire dar voce? Vuol dire occuparsi, rappresentare, non semplicemente testimoniare, soprattutto con le aree di fragilità sociale e di difficoltà che questa città nei processi di costruzione in questi anni purtroppo ha visto aumentare. Crediamo che il nostro modo di vedere la città, che poi presenteremo nei prossimi giorni, la nostra cultura politica, il nostro amore per l'Aquila, possa essere indispensabile per gli anni che abbiamo di fronte. Gli anni che abbiamo di fronte non saranno semplicemente gli anni della ricostruzione fisica dei mattoni, saranno quelli della ricostruzione economica, sociale, culturale, quelli che dovranno dare un'anima e un futuro reale all'Aquila e rendere bello e possibile vivere qui e il futuro soprattutto alle giovani generazioni.